Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati. Con il battesimo Gesù ha iniziato il suo ministero pubblico e Giovanni Battista testimonia di lui. Soffermiamoci su una frase talmente importante che la ripetiamo a ogni messa prima di accogliere nostro Signore nell'Eucaristia. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Cosa significa? Perché è così importante? Per dire in modo semplice questa espressione ci dice chi è il solo capace di prendere su di sé e togliere di mezzo quella separazione che c'è tra l'umanità e Dio a causa del peccato, del peccato originale in primis, a causa del quale nasciamo in una condizione ferita, inclini al male, staccati da Dio senza la sua grazia santificante in noi e poi a causa dei nostri peccati personali. Per questo il sacerdote a messa ripete l'acclamazione al plurale, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, tutti i peccati. Vi è qui qualcosa di decisivo. Vedete, il peccato è la principale fonte di sofferenza dell'umanità e non è qualcosa che l'uomo può risolvere da sé. Il peccato non è una regoletta infranta, un piacere proibito o uno sterile moralismo inventato dalla chiesa. Il peccato rende schiavi, produce tanta sofferenza e può condurre l'anima alla morte eterna. Il catechismo lo definisce come un'offesa a Dio, una mancanza contro la ragione, una trasgressione in ordine all'amore vero, verso Dio e verso il prossimo. Ferisce la natura dell'uomo, indebolisce intelletto e volontà, diceva Sant'Ommaso, corrompe la coscienza, conduce al vizio e poi attenta alla solidarietà umana, infatti introduce nel mondo disordine, crea ingiustizia, impedisce alla vita propria e altrui di fiorire. E il peccato, miei cari, riguarda tutti. Per quanto cerchiamo di presentarci come personcine risolte, garbate, sistemate, abbiamo tutti una parte irrisolta, tutti portiamo il carico dei nostri peccati, delle nostre incongruenze, delle nostre fughe dalla realtà, quei nostri atti egoistici, maliziosi, nascosti, le nostre dispersioni, intemperanze, discontinuità, omissioni. Ecco, questa zavorra pesa, è come una ferita che sanguina, come una catena che lega, come una gabbia che imprigiona. Ora, per quanto la nostra coscienza possa non essere formata e illuminata dalla parola di Dio, l'uomo in qualche modo avverte l'esperienza del male e vorrebbe toglierlo di mezzo, ricorrendo anche a varie opinte strategie. Facciamo simpaticamente qualche esempio. C'è chi pensa di tagliare alla base il problema, convincendosi di essere sempre a posto, sminuendo o negando errori e peccati. Questa presunzione di giustizia spesso altro non è che un immaturo tentativo di difendere la propria immagine e il proprio valore. Oppure c'è chi alleggerisce, ricorrendo al famoso capro espiatorio. Se ha fatto qualcosa è sempre colpa di qualcun altro, mai sua. O comunque c'è sempre un motivo per giustificarsi. È appunto il tentativo di autogiustificarsi, che talvolta rende pure ridicoli, certe arrampicate libere. C'è chi va in cerca di forme di religiosità o filosofie che legittimino il peccato che commette, dandogli il placet per restare nella propria ambiguità, o che propugnano forme di autoassoluzione o autopurificazione o autodivinizzazione. Della serie il divino è già in te, basta attivarlo e sei a posto. Somigliano a echi sbiaditi della tentazione originale, la pretesa di essere dio senza dio. Oppure c'è chi non pensa, chiudiamo tutto nel cassetto del dimenticatoio e chi si è visto si è visto. Ma anche questa strategia è fallimentare. Se mi son tagliato profondamente un braccio, non è che se copro la ferita e non la guardo questa non sanguina, va messa davanti al medico. Oppure c'è chi consapevolmente o meno si autopunisce e va avanti così una vita. Ad esempio ricordo la testimonianza di una donna che da giovane commise vari aborti. Lei stessa pubblicamente raccontava che tanti erano i motivi che lei pensava di avere, convinta che non fosse poi così grave. Lo pensava, ma sentiva ben altro. Infatti a partire da quel momento iniziò a mettere in atto atteggiamenti sabotanti, autopunitivi, diete micidiali, cura eccessiva dell'immagine, relazioni usa e getta, pensando di non meritare nulla di più. La sua salvezza fu aprire il cuore a Gesù, guardandosi nella verità, riconoscendo il proprio peccato davanti all'amore di Dio. Allora si rese conto del suo disperato tentativo di scappare da se stessa e dal proprio male senza riuscirci, finché non si lasciò riabbracciare dalla misericordia di Dio sperimentata nella confessione. Ecco miei cari, gli esempi si potrebbero moltiplicare. Il punto è che noi possiamo usare tante strategie, ma il peccato non è rimuovibile con tecniche umane. Non c'è psicologia o sociologia o scienza umana che tengano. Quelle servono a darci chiavi preziose per gestire e migliorare la nostra umanità, ma non possono togliere il peccato, non possono guarire la nostra anima, non possono riconciliarci con Dio. Dunque, chi può prendere su di sé tutto il peccato presente nel mondo e riconciliare l'umanità con Dio? Chi può liberare il mio cuore dalla colpa, dall'attaccamento al peccato, da quella latente ribellione che mi spinge a fare di testa mia? Ecco l'agnello di Dio, ecco lo strumento che Dio padre ci ha fornito, suo figlio. Ecco colui che ha preso su di sé il peccato del mondo ed è andato sino in fondo, obberendo al padre sino alla fine, amandoci sin lì, anche nel nostro rifiuto, nelle nostre zone buie, per riportarci alla luce. Ecco il vero agnello pasquale, prefigurato nell'esodo, con quell'agnellino immolato la notte di Pasqua, il cui sangue, sparso sugli stipiti delle porte, liberava dall'angelo della morte. Ecco l'agnello profetizzato da Esaia, quel misterioso servo che come agnello condotto al macello avrebbe portato il peccato di molti. Ecco colui che ci libera dall'oppressione della colpa, che ci tira fuori dalla solitudine nella quale il peccato ci infila, portandoci alla libertà, alla comunione con Dio. Se dunque è lui che ci libera dal peccato, a noi cosa è chiesto? Di lasciarci perdonare e rialzarci, ridecidendoci per lui. E scontato? Purtroppo no. Lo esprime bene padre Henry Nowen. Una delle più grandi provocazioni della vita spirituale è ricevere il perdono di Dio. C'è qualcosa in noi che ci tiene tenacemente aggrappati ai nostri peccati e non ci permette di lasciare che Dio cancelli il nostro passato e ci offra un inizio completamente nuovo. Chiediamoci, ma voglio davvero essere totalmente perdonato, in modo che sia possibile una vita del tutto nuova? Voglio rompere con la mia ribellione profondamente radicata contro Dio e arrendermi in modo così assoluto al suo amore da far emergere una persona nuova? Caro fratello, cara sorella, forse da tempo non ti confessi, magari ne hai persa di vista l'importanza, o forse pensi che il tuo peccato sia troppo grande, o forse avverti che il tuo cuore è ancora legato al peccato. Ho preso dall'orgoglio dopo l'ennesima caduta, ti sei scoraggiato. Vorrei dirti, guarda Gesù, guardalo come agnello mite, che tutto dona e tutto per te si dona. Guardalo in croce, per amor tuo, con le sue braccia aperte, per guarirti con un abbraccio e liberarti da ciò che ti opprime. Davanti a quest'amore, cosa c'è da temere? Chi mai avrebbe paura dell'amore? Ricordo una persona che dopo anni si confessò, al termine della confessione, con un sospiro di liberazione, disse, magari l'avessi fatto prima. Gesù in una rivelazione privata, Santa Faustina disse, figlia, quando ti accosti alla santa confessione, a questa sorgente della mia misericordia, scendono sempre sulla tua anima il mio sangue e acqua, che uscirono dal mio cuore e nobilitano la tua anima. Quando vai alla confessione, sappi che io stesso ti aspetto in confessionale, mi copro soltanto dietro il sacerdote, ma sono io che opero nell'anima. Lì la miseria dell'anima si incontra col Dio della misericordia. Lì avvengono i più grandi miracoli che si ripetono continuamente. Per ottenere questo miracolo non occorre fare pellegrinaggi in terre lontane, né celebrare solenni riti esteriori, ma basta mettersi con fede ai piedi di un mio rappresentante e confessargli la propria miseria. E il miracolo della divina misericordia si manifesterà in tutta la sua pienezza. Infelici coloro che non approfittano di questo miracolo della divina misericordia. Cari fratelli e sorelle, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, ecco chi ci rigenera nell'amore, chi sa infondere pace e liberare il nostro cuore. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.